Oggi pomeriggio avremo modo di sviluppare maggiormente, vuol dire, gli incontri servono anche a questo, per poter affidare, trarre delle... anche per lo stesso consorzio, io credo che abbia anche... anzi, deve crescere. La vostra partecipazione qui è anche per sentire qualche voce che non è in perfetta assuranza con voi. Grazie. Qualche altro intervento? Bene, allora, a questo punto io considero chiusa la sessione mattutina. La mancanza di due relatori, uno è stato spostato domani, l'onorevole Bernola, per dare impegni parlamentari, e non parlamentari, mentre l'assessore Neodedeo è influenzato. Quindi, riprendiamo i lavori alle ore 16, 16 e 15, oggi pomeriggio, sul tema, con una tavola da ponte, dal tema, con una figura professionale del rilevatore. Grazie.